Buonasera a tutti, proseguono i lavori della scuola di Sottosopra con un panel dal titolo La soggettività nell'era della crisi, riflessioni su cura, relazione e senso dell'esistenza. Lo scopo di questo incontro è quello di delineare a grandi linee una breve antropologia, potremmo dire, una psicologia del capitalismo contemporaneo. Se vogliamo seguire l'analisi di due sociologi francesi che sono Boltanski e Chiappellot, dovremmo identificare il 1968 come una data simbolo, una data spartiacque, Successivamente alla quale alcuni concetti come flessibilità, mobilità e prestazione diventano dei criteri socialmente operativi, anche nel discorso pubblico sono sempre più frequenti. L'utilizzo di questi termini dipende dal fatto che a partire dagli anni 70 c'è stata una espansione indefinita della logica di mercato E da un punto di vista della salute mentale il neoliberalismo non è stato certamente indolore. Come mostrerà anche il professor Romano, gran parte della riflessione sociologica ha come modello antropologico quello dell'homo economicus, dunque dell'egoista razionale. Quello che però in realtà è successo in questi decenni è che è emersa una nuova soggettività, una nuova soggettività che vive in una costante sensazione di precarietà. Volendo utilizzare un'espressione molto riassuntiva, la soggettività neoliberalista vive una condizione continua di nomadismo esistenziale. E' proprio per questa ragione che riteniamo, per questa ragione che ci troviamo di fronte oggi a un'epidemia veramente esplosiva di disagio psichico individuale. Per fare qualche esempio, ansia, depressione, burnout sui luoghi di lavoro o per usare un termine classico, l'alienazione, rappresentano proprio l'iscrizione nella psiche individuale dei nuovi criteri di socializzazione che sono emersi a partire appunto dal 1968. Criteri di socializzazione che sono fondati sulla competizione capitalistica. La riflessione di stasera ha sicuramente una forte valenza politica, almeno per due ordini di ragioni. Intanto perché il fenomeno del disagio psichico è, da un punto di vista quantitativo, veramente esplosivo, come abbiamo detto. Soprattutto il periodo Covid ha aperto il base di Pandora e per quanto riguarda soprattutto le fasce più giovani, il disagio psichico appunto è esploso. Pensiamo solamente all'aumento dei casi di suicidio o di tentato suicidio. Ma c'è anche una ragione più profonda per cui questa riflessione è una valenza politica, che io credo smonti il mito e la retorica oggi imperante della retorica libertaria. Si fa passare molto l'idea per cui il capitalismo e in particolare il libero mercato sia l'unica organizzazione sociale in grado di garantire la creatività individuale. E qui mi fermo per non dire troppo. Presento i nostri prestigiosi relatori, che sono Vincenzo Costa, che insegna Fenomenologia all'Università Alessar Raffaele di Milano. Onofrio Romano, che è sociologo e professore associato all'Università di Roma 3. In collegamento da Parigi abbiamo il sociologo e il filosofo Maurizio Lazzarato e anche Arimana Scriba da Milano. Purtroppo ho avuto un problema personale, quindi aspettiamo che ci chiami. Lascio la parola a Vincenzo Costa. Innanzitutto molte grazie per questo invito. Mi fa veramente molto piacere stare qui a chiacchierare con voi, a confrontarci su un tema che appassiona a me, ma credo che appassioni tutti quanti, se non altro perché tocca le nostre passioni. Le passioni non sempre sono piacevoli, come non ci piacerebbe credere, a volte possono essere devastanti. Esiste una discussione molto controversa, io non la costruirò, non la ricostruirò qui, ed è relativa al fatto quanto le emozioni abbiano una base di tipo naturalistico, quindi non dipendono dal contorno sociale, dalla rete di interazioni, e quanto invece le emozioni dipendano dal tipo di società in cui si vive, per esempio dal sistema di interazione. Ma in realtà non vi parlerò di emozioni, vi parlerò di una emozione in particolare, che è l'ansia, per molte ragioni. La prima è quella che devo circoscrivere il più possibile per impedire che il discorso sfuga di mano, diventi incontrollabile. In secondo luogo, perché da un punto di vista epidemiologico, oggi si parla di epidemia di ansia, epidemia di ansia, cioè i numeri che noi abbiamo, sono veramente, se qualcuno di voi può guardare i lavori di Wilkinson, ed è importante che siano tutte statistiche che sono tutte relative al periodo pre-Covid, quindi non imputabile al Covid, questa epidemia di ansia si è sviluppata ampiamente prima, il Covid poi ha avuto un effetto di amplificatore e l'idea è quindi che noi viviamo nella società dell'ansia. L'idea che vi cercherò di proporre è che il capitalismo ci crea come soggetti, creandoci come soggetti ansiosi e in questa maniera ci crea come soggetti che non possono che riprodurre il sistema che crea in loro ansia. È stravagante come cosa, cercherò non di argomentare perché il tempo non lo consentirebbe, vi proporrò delle tesi in maniera un po' dogmatica, mi perdonerete se non è argomentativa, ma è tipo tesi su Feuerbach, senza la grandezza di Marx, cioè sono quelle cose che io quando dicevo che sono tesi su Feuerbach, io mi chiedevo sempre come fai a dirlo, però dicevo a Marx e poi sarebbe un po' noioso perché bisognerebbe entrare in questioni un po' cliniche, anche in questioni di mettere insieme sociologia e neuroscienze, che è una cosa che mi parlavo prima, secondo me bisognerebbe fare, però quello che ne capisco io ancora nel nostro paese non è molto sviluppato, quindi può sembrare un po', tenete conto che ho un obiettivo che se avessi tempo, l'ho preparato ma non riuscirò a parlarne, è proporre un modello di teoria sociale che si distanzi da due altri modelli, i modelli da cui intenderebbe distanziarsi, lo dico in maniera per onestà, non per polemica, l'avevo preparato prima di sentire tutte le cose, il primo modello da cui si intenderebbe distanziarsi è quello marxista, cioè non ci permette per varie ragioni di comprendere quello che sta accadendo, personalmente penso che anche la categoria di capitalismo potrebbe non essere una buona categoria per interpretare né la storia né quello che sta accadendo, quindi parlerò di società dell'ansia, che ha certamente molto a che fare con il modo di produzione, però non è un riflesso, cioè non è l'effetto sovrastrutturale di cambiamenti della struttura. Il secondo modello è quello da cui prenderò le distanze, se avrò tempo ci torniamo, se volete, è quello che chiamerò in maniera, adesso Romano mi uscide, il modello passoniano-abermasiano, che è un modello che è stato dominante in sociologia, nelle scienze umane, ed è basato su questa idea, che cosa costituisce il legame sociale, e a costituire il legame sociale sarebbero valori oppure elementi di tipo discorsivo. Quello che vi proporrò invece, questo è l'impianto teorico che sorregge, è che quello che chiamiamo mondo della vita, e quindi anche struttura sociale, ordine sociale, non sono né valori né strutture di tipo discorsivo, non sono narrazioni, se vogliamo usare questa parola, quella che chiamiamo società, quello che chiamiamo, io preferisco mondo della vita, per ragioni non solo autobiografiche, non è come lo pensava Schultz, è un'articolazione emozionale, quando dico un'articolazione intendo dire che le emozioni sono un campo di studio di cui possiamo portare, mettere in luce strutture articolate, non è un caos, questo non è una grande scoperta, su questa cosa c'è un consenso abbastanza ampio negli ultimi 30 anni, e questo ha delle conseguenze, cioè un modello sociale cambia quando cambia l'articolazione emozionale che la sorregge. Non starò a giustificarla, ho già sparato la mia prima cosa grossa, si parla, cosa grossa nel senso di ingiustificata, si parla di crisi, nel titolo, ne parlavo prima, crisi di cosa? La nozione di crisi la potrei ricondurre, la ricondurrò, allo sviluppo di un crescente disagio psichico. Questi sono dati, ormai li ho preparati, se volete, però per ragioni di velocità lo do per scontato. Se voi lo guardate, sia dal punto di vista odierno, quindi temporalizzata all'istante, sia solo guardate con gli studi, con i numeri di cui disponiamo negli ultimi 60-70 anni, vedete che c'è un'impennata. Siccome io penso che il DSM sia una scemenza, scusatela, penso che il DSM possa essere una cosa molto controversa, però il DSM ha qualcosa di geniale, cosa di geniale? Il DSM registra i cambiamenti che avvengono nella società, per esempio inventa delle malattie, ma non è che l'invente basta, cioè non è fucottianamente che cambio struttura categoriale, no, registra perché nella società cambia qualcosa, per esempio il disturbo di ansia generalizzata è un disturbo abbastanza recente, la maniera in cui concettualizziamo il disturbo borderline è una maniera abbastanza recente, perché? Probabilmente perché il disturbo psichico ha una radice storica, cioè storica significa si nutre di un'articolazione emozionale che lo tollera, lo consente e lo fa esplodere. Quindi se io riconduco la crisi a un crescente disagio psichico, non vorrei occuparmi di cliniche, mi piacerebbe anche farlo, ma non è quello il punto, è semplicemente che cercherò di argomentare il disagio psichico ha un'origine sociale, si radica in processi di trasformazione sociale e culturale, prima che economica, prima che economica, ed è per questo che, per essere molto chiare, è un po' brutale, se noi superassimo la crisi economica, avessimo un sistema economico con piena occupazione, salari alti, non per questo avremmo superato la crisi del capitalismo attuale, anzi, da un certo punto di vista sarebbe aumentato, gli studi di Wilkinson mostrano chiaramente, di Richard Wilkinson, mostra chiaramente che i disturbi d'ansia non sono correlati alla povertà, sono correlati alle diseguaglianze, è la diseguaglianza che genera l'ansia, perché ha a che fare con la situazione, con status, ruolo, e con un'espressione che forse a Romana non piacerà, rango, esiste una teoria del rango molto specifica, che è a metà tra neuroscienze e sociologia, perché anche i primati, ma questo non voglio tediarvi su queste cose, questo impatta tutta la popolazione, impatta tutta la popolazione, ma in maniera differente, quindi il fatto che impatti tutta la popolazione non ci deve dire che allora essere ricchi o poveri non cambia nulla, però le differenze tra ricchi e poveri non sono neanche fondamentali, fondamentali, perché dal mio punto di vista, no, questo diciamo è oggettivo, il vero punto di pericolo è un problema di tipo generazionale, cioè noi stiamo perdendo gli adolescenti, è un problema esplosivo che riguarda il futuro delle nostre società, cioè siamo una società che distrugge sistematicamente lo sviluppo adolescenziale, cioè non siamo in grado di produrre meccanismi, sistemi che permettono il passaggio dall'adolescenza, per varie ragioni che qui se volete possiamo affrontare dopo, ma per dirla molto brevemente è perché così come c'è il pruning dal punto di vista neurale, ci deve essere anche una riduzione di complessità, cioè l'adolescente si trova davanti a più possibilità di quelle che può vivere, e tutte le società e tutte le culture che conosciamo hanno sempre trovato dei sistemi che sono delle riduzioni di complessità, noi invece, attraverso una cultura molto particolare, non siamo più in grado di offrire agli adolescenti come ridurre le possibilità. Ora è chiaro che voi capite, se io mi trovo davanti più possibilità di quelle che posso vivere, questo è il generatore di ansia, perché è come se le rincorressi, la fanno, che poi ha un riverbero fisico, quindi, che sono le caratteristiche tipiche del disturbo di ansia, battito cardiaco, produzione di cortisolo, una volta che la produzione del cortisolo la cosa va in maniera automatica, cioè non dimentichiamo che siamo anche delle macchine, non siamo solo macchine, però siamo anche delle macchine che funzionano in maniera macchinosa. quindi, il disagio psichico, quindi, mi serve, non tanto da un punto di vista clinico, ma perché è il segno di una crisi più generale, che non è riducibile a quella economica, sono tutte vere le cose, molte delle cose che non sono state dette, però secondo me non è il punto di scontro veramente, oggi, non è quello il nucleo, e se voi parlate con degli adolescenti, lo capite subito, che non è quello che gli interessa, il problema per loro sta altrove, non è quello che li motiva, da un punto di vista politico, alla lotta, perché non è il loro problema, però quello che più mi interessa, da un punto di vista scientifico, se mi permettete questa parola, è che le forme del disagio psichico sono il riverbero soggettivo, o come mi permetterete, da vecchio fenomenologo, il riverbero esistenziale, perché la nozione di soggettivo, a me fa venire la pelle d'oca, proprio la nozione di soggetto, il riverbero esistenziale, di un malessere più, di carattere più ampio, che attraversa tutta la società, cioè l'idea sarebbe la psiche si frammenta, perché la società si frammenta, la psiche si frammenta, perché la società si frammenta, e viceversa, cioè non metterei chi è prima e chi è dopo, è chiaro che è un modello platonico il mio, quello dell'anima, l'anima della città, e l'anima individuale, come strutture speculare. Ora, proprio in virtù di questa specularità, tra esistenza e società, o se voi volete, tra psiche e società, secondo dei vostri gusti, quello che accade all'esistenza, ci permette di individuare le caratteristiche emozionali del capitalismo odierno, qui uso, cioè quali sono le caratteristiche del capitalismo odierno, per esempio Weber ha messo in luce che le caratteristiche del capitalismo che nasce, si nutre di un certo tipo di emozionalità, Aldovacs mette in luce cose simili, la cosa è abbastanza ampia, ma oggi è chiaro che nessuno di noi sosterrebbe che l'emozionalità che sorregge le motivazioni all'agire sono quelle Weberiane, immagino che non sono quelle. Allora, quali sono le caratteristiche emozionali? L'idea che vi proporrei è questa, quella in cui viviamo è una società dell'ansia e della ostilità, non sono la stessa cosa, perché c'è un rapporto di fondazione, la società dell'ansia si radica in una società dell'ostilità, che ha fatto dell'ostilità, attenzione, spero di averci, a volte anticipo perché temo di non arrivarci, perché noi siamo una società che ha fatto dell'ostilità il nucleo dello sviluppo economico, culturale, sociale, cioè più ostilità c'è, più ricchezza si produce, meglio la società funziona, è paradossale, cioè noi stiamo pensando che a costruire il legame sociale possa essere l'ostilità. Guardate che non è che questa cosa caratterizzi tutte le forme del capitalismo, bisognerebbe fare cose più specifiche, caratterizza il capitalismo negli ultimi 30 anni. Dal mio punto di vista, il neoliberalismo non è la radice, è semplicemente un effetto di questa trasformazione emozionale, cioè noi è perfettamente inutile combattere il neoliberalismo da un punto di vista cognitivo, discorsivo, perché questa struttura si è infilata dentro la nostra pelle, cioè non la cambiate, voi potete essere, io vi posso convincere a non essere così, ma voi poi proverete l'ansia e per placarla farete quello che il capitalismo vuole che voi facciate, perché avete bisogno di un riconoscimento. In questa maniera riproducete un sistema che produce l'ansia e con la vostra ansia vive e si riproduce. Questa è un po' l'idea, quindi analizzare il disturbo d'ansia significa analizzare il cuore, dal mio punto di vista, mi assumo il cuore pulsante e propulsivo dei meccanismi di conservazione, di riproduzione sociale, uso il termine riproduzione, il romano sa benissimo a chi mi riferisco, ma modifico un pochino, credo, anche rispetto alla sua impostazione. I disturbi dell'ansia e dell'umore esprimono soggettivamente le crepe che si stanno aprendo in quella rete emozionale che sorregge l'ordine sociale, cioè l'ordine sociale non è retto da convinzioni, le convinzioni sono soltanto fabulazioni o razionalizzazioni di modi di sentire. I modi di sentire caratterizzano un'epoca, quindi capite perché prendevole distanze dal marxismo, a caratterizzare un'epoca storica non sono le forze produttive, non sono i rapporti di produzione, ma ci sono molte ragioni, potrei portare, perché è sbagliata da tutti i punti di vista, questa cosa, da un punto di vista della genesi della storia, dell'analisi del neolitico, il neolitico e la rivoluzione agricola non nasce così, ci sono cose che non possono stare né in cielo né in terra in Marx, per esempio Marx dice beh lo strumento, la storia inizia con lo strumento, poi dice però la storia inizia quando si comincia a produrre i mezzi di produzione, ora tra l'uso dello strumento e l'uso della creazione di mezzi di produzione passano 3 milioni di anni, tanto per essere chiari, quindi non funziona, ma non lo dico per polemica, quindi se la cosa vi dà fastidi la ritiro subito, capisco che possa dar fastidi anche se non sono stato educato al marxismo, però penso che non ci permetta oggi di capire quello che sta succedendo, per esempio alla fine una teoria deve permettere di capire quello che succede e se io voglio capire cosa sta succedendo agli adolescenti non lo capisco, i disturbi di ansia e del rumore esprimono questo, e quindi segnalano una crisi complessiva dell'ordine sociale, cioè la perdita di sincronia tra sistema sociale e azione sociale, ora chi si è occupato di sociologia sa che un sistema per funzionare queste due cose devono essere sincronizzate, quando non sono più sincronizzate sono dei dolori, il sistema non produce più le necessarie motivazioni all'agire, quello che si chiama noia, non produce più le necessarie motivazioni all'agire, se non a una condizione costruendo un soggetto ansioso, cioè il soggetto agisce ed è motivato solo dal tentativo di placare la propria ansia, che avverte, un soggetto ansioso, che avverte su di sé l'ostilità del mondo che gli sta attorno, quindi vi è una trasformazione delle motivazioni all'agire, a motivare l'azione e il senso di essere assediati e in competizione con tutti, questo lo troviamo già a scuola, sul luogo di lavoro, tra colleghi, la cosa è nella ricerca dei like, ve la portate persino a letto, e non mi fate entrare, no sto scherzando per nulla, ci sono studi, c'è quella che si chiama ansia da prestazione, e non riguarda solo i maschietti, come sareste portati a pensare, quindi è una cosa che si sta diffondendo, badate che la maniera in cui le esistenze, i soggetti danno una risposta a questa ansia è una sola, si chiama ritiro sociale, ora il ritiro sociale è uno dei criteri, non è l'unico, con cui noi parliamo di una situazione psicotica, quindi stiamo parlando di cose molto, molto, molto gravi, e un clima, perché a motivare questo? Perché viviamo in un clima, uso la nozione di clima in maniera molto specifica, oggi si parla di clima, atmosfera, uso la nozione di clima come ne parla De Rivera, che ha fatto un bellissimo lavoro sulla nozione di clima sociale, e il clima è un'area che respiriamo, e ogni, è l'atmosfera che caratterizza un gruppo sociale, De Rivera dice il clima sotto il regime di Pinochet era la paura, e la paura strutturava, il clima che caratterizza la nostra società è un clima di ostilità e di comparazione, cioè si è modificata il modo di essere insieme, la struttura dell'intersoggettività si costituisce attraverso un sistema comparativo, il sistema comparativo non lo prendo da nessun psicologo, lo trago direttamente da essere tempo, tanto per essere chiaro, la nozione di comparazione, la soggettività, l'ansia allora è la coscienza pre-riflessiva, insisto su questo pre-riflessivo, pre-riflessivo significa che i soggetti la vivono, la sentono, ma non ne sono consapevoli in maniera riflessiva, il concetto pre-riflessivo oggi è uno dei concetti più studiati perché siamo stati costretti, l'ansia è la coscienza pre-riflessiva di essere situati in un clima di ostilità e in un sistema di interazioni basato sulla comparazione, cioè il soggetto si sente bene, si sente ben riuscito, placare la propria ansia, quanto nel confronto con gli altri e solo attraverso il confronto degli altri ritiene di avere status, potere o rango tale da avere un'identità stabile, ma la ricerca in continuazione perché ogni azione produce questo, la struttura delle interazioni sociali solidali tende pertanto a collassare, per esempio questo lo troviamo benissimo in un autore come Richard Zennett, l'uomo flessibile, se ne parlava prima, e questo bisognerebbe ancora andare a vedere se è il sistema economico che produce la situazione di flessibilità o se è un cambiamento nei modi di sentire che poi produce esso, c'è un problema come i sistemi stanno assieme, ma questo non lo affronterò perché mi porterebbe un po' troppo lontano e questo che cosa provoca? Provoca, genera sentimenti, cioè i sentimenti non sono naturali, i sentimenti sorgono nell'interazione sociale, a seconda delle posizioni di status e di ruolo che voi avete, a seconda delle aspettative di cambiamento di status o ruolo, si produrranno certi sentimenti piuttosto che altri, ansia se ho paura di perderlo, ansia se ho paura di non conquistare un certo status, rabbia, rabbia però solo a una condizione, se il soggetto, queste sono una serie di studi che sto riassumendo, sono studi di Kemper per esempio, rabbia solo a condizioni che io ho avuto una perdita di status, ma penso di poterla recuperare, quando il soggetto invece pensa di non poterla più recuperare, subentra non più rabbia, subentra invece una situazione di depressione, depressione in senso clinico, questo per esempio è evidente anche dagli studi di Zenet, ma anche soprattutto dagli studi di Paul Gilbert, che ha fatto una cosa appunto, la depressione come l'evoluzione dei senza potere, cioè la depressione è una reazione che è fatto non ho potere, la mia vita è nelle mani di altri, e quindi cambia il rapporto al futuro, io non sono più attivo dirigente, ma devo solo aspettare, capite, come aspettare l'esame, avete fatto un attack, e state lì ad aspettare che qualcuno vi dica, mentre vivere non è esattamente quello, vivere è costruire il proprio futuro, mentre qui c'è una sottrazione di possibilità, questo genera la depressione o l'ansia secondo poi, questa è la vendetta, la paura, l'odio, se avrò tempo ne parlerò, perché oggi c'è questa campagna enorme, da parte del mondo accademico, del mondo istituzionale contro l'odio, l'odio ha messo in luce la Hochschild, è un'emozione che fa vedere, non è un'emozione negativa, cioè tanto per essere chiari, la Hochschild, che non è esattamente una bolshevica, ha messo in luce che l'odio è quello che ti fa vedere che qualcosa non è più tollerabile, in maniera pre-riflessiva, cioè non è una cognizione, un giudizio, una credenza che genera un'emozione, ma è qualcosa di automatico, implicito, che scatta subito, queste sono le emozioni del capitalismo maturo, tutte quante fanno riferimento, si nutrono di ansia e definiscono l'essere insieme, vado molto rapido, badate l'odio è riconducibile all'ansia, solo un soggetto ansioso, è una delle, sarebbe, non lunga, ma ci vorrebbe un po' di tempo, per esempio, il soggetto che è aggressivo, per esempio in un disturbo borderline o in un disturbo antisociale, sta scaricando ansia, quindi questa è una delle ragioni per cui la cosa del ministro secondo me non porta da nessuna parte, cioè perché vuole curare il sintomo e non quello che con Minkowski possiamo chiamare il disturbo generatore, cosa produce il disturbo antisociale, eccetera, eccetera. Tutto questo definisce l'essere insieme, un nuovo tipo di essere insieme, uso il termine essere insieme ma ancora una volta in senso heideggeriano, il mitzain, devo farlo un po', perché mi metto un mio sta cosa, definiscono l'essere insieme nella società dell'ostilità, badate, questa non è naturale affatto, è una cosa tipica degli ultimi anni, non appartiene alle culture contadine, non appartiene alle culture operaie, oggi si parlava con Fortunato, se voi leggete come in italiano, la formazione della classe operaia in Inghilterra di Thompson, vedete che le strutture dell'essere insieme sono totalmente diverse e questa è quella invece della maniera in cui si sta sviluppando, ma se avessi tempo potrei mostrarvi delle cose delle scuole private che pubblicizzano la scuola privata mettendo insieme la corsa, un autore, un pedagogo progressista, stavo per dire maledetti loro ma lo ritiro subito, un autore progressista come Gardner che dice chi non ha abbastanza sapere e non ha abbastanza frecce nella propria faretra è destinato a ballare quindi devi attrezzarti che è una cosa molto strana, noi stiamo dicendo ai nostri ragazzi che l'istruzione serve a costruirsi delle armi, la stiamo considerando neutra questa cosa, io non credo che sia neutra, ed è inutile ed è evidente che costruiamo dei soggetti ansiosi perché gli stiamo dicendo tu sei in corsa con tutti, i tuoi compagni sono i tuoi competitor e quindi il voto diventa questa cosa, l'ansia è il segnale di una dipendenza, dipendenza da cosa? Da potenze che ti sono scappate di mano, l'ansia è la coscienza pre-riflessiva la mia vita non mi appartiene più, mi è scappata di mano, un adolescente non lo dice come lo dico io, capito che si intende per riflessivo, io lo sto dicendo in maniera riflessiva, un adolescente non lo dice in maniera riflessiva ma lo sente, questo è l'intento per struttura pre-riflessiva, la crisi è la creazione di un soggetto ansioso, la crisi è l'affermarsi di quella che Richard Wilkinson ha chiamato la minaccia socio-valutativa, cioè crescere e diventare adulti significa entrare in questo meccanismo per cui devo essere valutato e questa articolazione strutturale delle interazioni è diventata la forma delle interazioni oggi, non ve ne sono altre, questo modello di relazioni sociali fondata sulla creazione di nuovi tipi di emozioni, quali? Sulla creazione di sentimenti di vergogna, di inadeguatezza, di fallimento è la base di quella che possiamo chiamare la società dell'insicurezza la lascio indecisa se avrò tempo darò una definizione molto precisa di società dell'insicurezza per dirla con Hazlet che è un autore che si è occupato soprattutto del disturbo di ansia generalizzata quindi non è uno studioso di consumi Hazlet dice il soggetto produce, innova e consuma produce, innova e consuma quindi la teoria del consumo sarebbe a ricondurre per superare le proprie credenze fondamentali di incompetenza personale e di paura di fallire cioè producendo innovando consumando quindi non è soltanto che mi devo come pensava ancora Veblen il consumo ostentatorio cioè qualcosa di più radicale cioè qualcosa che si infiltra dentro la nostra pelle questo ha a che fare con quella che possiamo chiamare l'azione come controllo dell'identità esiste una teoria una teoria sociologica interessante si chiama appunto teoria del controllo di identità di Kenneth Burke e credo che mostri come funzioni all'opera questa cosa l'azione generatrice di ansia perché in essa viene messa costantemente alla prova la propria identità agire significa mettere alla prova la propria identità si consuma per prendere posto nella gerarchia sociale e si consuma anche peraltro c'è il disturbo compulsivo che avrebbe a che fare ha una struttura diversa ma sempre riconducibile all'ansia però non ho tempo adesso perché il consumo è l'evidenza di non essere tra i perdenti o tra gli sconfitti della globalizzazione su questo la cosa è bipartisan perché anche veneziani parla che insomma ci sono i perdenti della globalizzazione quindi sembra un PD scusate questo non lo devo dire quindi ritiro tutto l'azione la cosa terribile è questa l'azione non è più un'espressione di sé non è più esposizione l'azione sottopone a controllo la nostra identità è un test qualsiasi azione dall'interrogazione ci sono degli studi per moltissime persone andare a un party è diventato un trauma per molti di noi no ma ce ne sono altri possiamo dire che le emozioni sorgono attenzione le emozioni sorgono nel rapporto tra significati identitari e la capacità di supportarli nel corso dell'interazione sociale cioè io ho dei significati identitari quello che credo di essere personalmente le chiamerei con la canna ma senza andare sulla canna che a 30 ci perdiamo identificazioni alienanti cioè sono delle identificazioni che mi allontanano da me ma io poi devo queste cose genero ansia perché? perché devo metterla alla prova perché se veramente sono quello che credo di essere si vede nella prova e la prova avviene davanti ad altri Sterns ha messo in luce che viviamo in una emozionologia che prescrive di sembrare sempre felici questa è una cosa abbastanza felici e allegri perché questi sono i segni dell'essere ben riusciti essi ci rendono attraenti ci fanno guadagnare amicizie relazioni sociali ma c'è un problema perché il gioco riesca gli altri non devono avvertire che stiamo fingendo cioè non dobbiamo soltanto fingere di essere felici questo è quella che la Hochschild chiama per così dire un lavoro emozionale di superficie il lavoro vero il lavoro emozionale vero consiste in quello che non è una finzione ma una simulazione cos'è una simulazione la simulazione non è fingere di avere un'emozione è costruirsela quindi emerge un'idea costruttivista l'emozione io con il lavoro emozionale la Hochschild l'ha messo in luce lo dico in maniera per capirci molto attraverso una ricerca sulle assistenti di volo circa parecchi anni fa ma questa possiamo estenderla a Instagram possiamo usarla per interpretare i social e così via c'è il soggetto non è soltanto che finge di essere allegro di essere ben riuscito ma comincia a provare quei sentimenti voi direte va tutto benissimo no non va benissimo perché perché nella misura in cui genera questi sentimenti perde contatto con la propria le proprie paure le proprie fragilità che non scompaiono continuano a lavorare il soggetto e riesplodono nella forma del sintomo produce una cosa che potrei descrivere così una volta costruendo le emozioni perdo il contatto con me stesso e quindi emerge una nuova forma di alienazione che non è quella prevista da Marx un'alienazione emozionale e questo mi permettete abbassando molto il livello non è che il livello sia altissimo però proprio per abbassare molto la cosa che però è come parla un ragazzo in una terapia dice così non mi sento più a casa nella mia stessa vita non mi sento più a casa nella mia stessa vita cioè la tua vita ti diventa estranea perché ti sono diventati estranei i tuoi stessi sentimenti potremmo dire così come vi è il corpo per altri vi sono le emozioni per altri via di corpo per altri via di sa altra nell'essere nulla Luca lo sa lo sapete tutti esistono le emozioni per altri che sono un processo di estraneazione di diventare estranei a se stessi che producono una vita per altri una vita per altri cioè siamo solo davanti allo sguardo dell'altro questo è il motivo per cui questa è una nozione di panottico come lo tratta Foucault ma adesso alcuni miei amici sanno credo che la polemica con Foucault dovrebbe essere illimitata infinita senza ma non è questo il luogo ho ancora 5 minuti ho già superato no altrimenti vi dicevo prima che Wilkinson ha parlato di epidemia di ansia i dati sono non ve li dico perché li trovate se leggete Wilkinson si tratta di Richard Wilkinson l'ansia questa è una delle idee di Wilkinson non è correlata a società povere per esempio lui scopre che in Nigeria società estremamente povera il livello di ansia è bassissimo mentre negli Stati Uniti è altissimo in Italia all'epoca ma era l'Italia per usare che ancora non era entrata in pieno regime neoliberale in Italia aveva una situazione di ansia abbastanza controllata e quindi la cosa è società povere quindi difficoltà nella vita non produce ansia produce preoccupazioni una serie di cose a produrre l'ansia sono le società diseguali maggiori sono le diseguaglianze sociali maggiori sono i livelli di ansia perché ovviamente permettete di andare molto rapido i livelli di ricchezza sono costruzioni dell'identità marcano se ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta quando una persona arriva a 35 anni non ha un lavoro non ha soltanto un problema economico eccetera ha un senso di fallimento esistenziale tenete conto che se avessi tempo di poter interpretare i dati il disturbo di ansia generalizzata da DSM io ho molti dubbi sul DSM però assumiamo che il DSM per una volta tanta abbia un senso il disturbo di ansia generalizzata viene considerato un disturbo che caratterizza una fascia di età molto particolare i 35 anni se voi vi chiedete perché i 35 anni la risposta ve la trovate da soli perché l'età in cui si decide se sei dentro o se sei fuori dopo non ce n'è più credo che la nozione quindi quella che si sta sviluppando è una società dell'insicurezza e la società dell'insicurezza si basa su una cultura del narcisismo vorrei dire perché la cultura del narcisismo beh c'è un campione molto strano un campione molto strano che dice che gli adolescenti di 50 anni fa dicevano solo il 12% diceva di essere una persona importante mentre gli adolescenti di oggi prima della pandemia l'80% diceva sono una persona importante voi direte wow qui c'è un'autostima cresciuta Wilkinson in maniera secondo me corretta ha usato un termine molto calzante parla di autostima malsana cioè qual è la struttura l'autostima malsana viene generata per negare sentimenti di vergogna e di inadeguatezza e in questa autostima malsana i soggetti ancora una volta solito modello perdono il contatto con le proprie emozioni in breve è difficile dovete pensare un po' alla tecnica Stanislavski in cui l'attore non soltanto deve fingere ma deve provare in modo da dare e quindi perdono il contatto con le loro paure fragilità ansie e poi per poi per poi riapparire nella maniera del sintomo vi avevo promesso quindi salto tutto semplicemente una definizione è una cosa che ha a che fare con la situazione dell'ostilità lo dico come situazione di Richard Zennett i vincoli sociali nascono a livello elementare da un senso di dipendenza reciproca cioè la dipendenza è originaria nell'essere umano tutte le parole d'ordine del nuovo sistema trattano la dipendenza come una condizione vergognosa secondo me il neoliberalismo prima che è una teoria economica prima che è una teoria dell'indebolimento dello Stato eccetera eccetera è questo il neoliberalismo è questo e il neoliberalismo vince perché è penetrata nella nostra pelle cioè determina come noi sentiamo quello di cui abbiamo bisogno che così è una società che così è una società insicura dovrei mi limito semplicemente a darvi una definizione la nozione società insicura è già presente nella Benedikt negli studi di antropologia anche in Maslow ma io lo traggo da De Rivera è un autore poco studiato in Italia io lo amo moltissimo De Rivera De Rivera dice le società insicure sembrano brulicare di persone aggressive che sviluppano comportamenti distruttivi e combattivi e sentono una grande quantità di ansia le società insicure sembrano brulicare di persone aggressive che sviluppano comportamenti distruttivi e combattivi e sentono una grande quantità di ansia quella cosa è complessa bisognerebbe articolare il rapporto tra tonalità emotiva emozioni modi di sentire vado molto rapido a caratterizzare la società insicura il fatto che le azioni portano benefici ad alcuni individui solo a spese di altri questa è la definizione le società insicure sono caratterizzate dal fatto che le azioni portano benefici ad alcuni solo a spese di altri mentre le società sicure sono le società che hanno canali di distribuzione della ricchezza dai punti di massima concentrazione concludo con una cosa buttata lì se avessimo il tempo potremmo riprendere tutto l'insegnamento di Marcel Moss l'idea di socialismo di Marcel Moss molto diversa da quella che deriva dalla tradizione marxista perché la circolazione del dono non è soltanto la circolazione del cula per dirla con Malinowski eccetera la circolazione del dono cosa che Malinowski non può cogliere e neanche Marcel Moss secondo me la circolazione del dono è una continua circolazione della distribuzione emozionale cioè da punto di vista sociologico noi sappiamo che le relazioni si interrompono producono rabbia risentimento vendetta quando qualcuno dalla relazione ha dei vantaggi emotivi a scapito dei vantaggi degli svantaggi a scapito dei vantaggi emotivi dell'altro per esempio in una relazione di coppia per fare un esempio banale provate a pensarlo da un punto di vista sociale quando io sono in una posizione di status e di ruolo e il rapporto con te produce in me sentimenti di essere ben fatto gioia eccetera ma in te produce sentimenti che possono variare dalla depressione alla rabbia al senso di vendetta eccetera al risentimento che non è come pensava Nietzsche il risentimento Barbalè appunto un autore che si è occupato ha messo in luce e allora la cosa di Maos l'idea di socialismo che è quella presente nell'ultima parte del saggio sul dono è l'idea di una circolazione emozionale cioè continuamente qualcuno ha dei vantaggi emozionali e qualcun altro se voi ci pensate la vera struttura chi di voi ha letto Argonauti nel Pacifico di Malinoski è la vera struttura perché altrimenti quella struttura non potrebbe funzionare cioè quello che accade in Malinoski come anche in Levi Strauss è il fatto che non si capisce perché una struttura funziona nelle vite dei soggetti cioè perché genera azioni e la struttura emozionale e questo sarebbe un altro discorso cioè la struttura emozionale è quella che permette di costruire questa sarebbe una pretesa un po' eccessiva una teoria generale della società che mette insieme azione e ordine sociale cioè queste due cose come fa non a messere insieme e un autore un sociologo tedesco che chiama Fonsheve è un autore che apprezzo moltissimo ha scritto un libro bellissimo proprio su ordini sociali ed emozioni Fonsheve dice la struttura emozionale è proprio questo punto di intermediazione tra azione e sistema sociale avrei moltissime altre cose a raccontarvi e sarà per un'altra volta grazie io ringrazio il professor Costa e darei la parola a Maurizio Lazzarato grazie se mi sentite vorrei ringraziare per l'invito anche se io non sono uno specialista del disagio sociale lavoro su rapporto tra soggettività e capitalismo perché penso che il capitalismo sia ancora quello nel quale siamo immersi fino in fondo io leggerò il testo per stare dentro la mezz'ora che mi era stata in forza e quindi per essere più preciso invece di parlare a braccio leggerò e cercherò di leggere in maniera articolata il cambiamento antropologico dell'individuo nel capitalismo contemporaneo è prodotto in maniera più efficace dal debito dai fondi di pensione dalla rendita insomma dal denaro che apre le porte al consumo piuttosto che il modello dell'imprenditore l'imprenditore di se stesso secondo la biologia neoliberale debito e consumo sono i pilastri su cui si fonda la conversione della soggettività operata dal capitalismo ciò che sembra più efficace del modello imprenditoriale è la religione di cui parla Benjamin il capitalismo come religione allo stesso tempo una religione indebitante e colpevolizzata fondata sulla fonda più astratta del denaro il credito dunque basta me mi pensa che il capitalismo sia una religione fondata sul credito ma il credito è credito per il consumo consumo dell'individuo delle famiglie delle imprese degli stati la religione dunque è una religione del consumo i suoi riti si svolgono comprando e consumando merci di ogni tipo il capitalismo del ventesimo secolo prima degli Stati Uniti dove il processo era già cominciato gli anni venti del secolo scorso ha spostato le masse principali della sua azione almeno nell'Occidente dal lavoro cioè dalla fatica dal sacrificio dal dolore al costumo cioè al piacere il desiderio e gratificazione senza fatica senza sacrificio senza dolore allora cercherò di sviluppare questa idea del capitalismo come religione intorno al costumo la sua forza di soggettamento di questa religione sta nell'essere culto rasti portamento una religione senza dogmi e senza teologia dice Walter Benjamin in realtà un'idolotria più che una religione proprio perché proprio perché è senza teologia noi siamo immersi 24 ore su 24 in parole immagini simboli pratiche del costumo nel medioevo ogni aspetto della vita si riferiva a Dio oggi a ogni aspetto del nostro agire quotidiano mangiare vestirsi dormire lavarsi abitare amare eccetera questo è una merce e una pubblicità che ci sollecita che ci aggredisce che martellate ci accompagna anche quando dormiamo perché merce pubblicità hanno invaso anche il nostro incontro il consumo non conosce sosta e senza di patente ha eliminato i giorni festivi perché è lui stesso una festa conti il capitalismo del consumo ha condotto una lunga battaglia fondamentale vinta contro la domenica il giorno in cui si dovrebbe intratore per il corso reale della vita aprendosi a ciò che c'è tradizionalmente questa eccezione era il sacro facendo perdere ogni sacralità la domenica ha reso sacro ciò che prima era profano tutto funziona H24 con questa espressione bruttissima H24 sette giorni la televisione e la sua pubblicità ma anche i negozi la vendita online in supermercati e di propri tempi dove il consumatore esercita la sua idolatria proprio perché è una religione di solo culto senza teologia senza documento io penso che sia questa la zona che si esercita estremamente sulla sua attività attraverso l'apporto denaro del mitoconsumo il lavoro per quanto si dica corrispondere al tempo della vita non potrà mai avere la presenza invasiva del consumo solo a suo proposito possiamo parlare di un'esperienza globale totalizzante perché il consumo entra nei comportamenti più quotidiani più banali ma anche più intimi non c'è gesto che non sia accompagnato e quindi modellato da una merce il lavoro anche se sfruttato è pur sempre cooperazione azione collettiva comunità tra i migliori mentre il consumo è l'individualismo il narcisismo portato allo sfido idealmente e simbolicamente il consumo è la realizzazione dell'interclassismo ma che continua ad essere fratturato questo interclassismo è gerarchizzato dalle polarizzazioni di classe che dalle differenze del reddito patrimonio lavoro il consumo è la svolta critico estetica del capitalismo perché promette l'allenizzazione di sé le merci sono gli strumenti della produzione del sé stile di vita forpe vita vita come opere d'arte direbbe se c'è un potere pastorale che guida le anime e trasforma i corpi e di oltre carlo qui al suo centro che è il corpo della dova come verso il consumo fa sparire la produzione in modi differenti non sappiamo niente di come sono stati prodotti né dove il supermercato il supermercato è la cantina ripetizione della miracolosa scomparsa del lavoro e dell'estrettanto meravigliosa apparizione delle merci nel patio delle idee del capitale il consumatore è composto di rinievo come modello di soggettivazione è sicuramente più efficace dell'imprenditorio che risente per grado tutto l'etica calvinista e la prestazione della statica del sacrificio di sé la grande vittoria riportata dal capitalismo contro il salario e quindi contro la classe operaia è stata ottenuta dalla coppia del consumo credito ciò che è reale per tutti nessun escluso non è tanto la figura dell'imprenditore ma piuttosto la situazione del consumatore e del vittore è il suo dipendere dal tempo come alternativa al salario che è bloccato al welfare che è tagliato alle pensioni continuamente ridotte e ormai coincidenti con la speranza di vita in buona salute che agisce sui soggettivi ora vorrei citare la frase di una femminista americana americana pelux che è morta al prossimo corso dove parla specialmente del rapporto tra debito e soggettività delle classi popolari pelux diceva il mio compagno non aveva il senso della vergogna mi ripeteva di continuo che il debito è l'ottile di vita americana cioè l'american way of life è il debito dice pelux la conversione antropologica è prodotta tra le fantasie ossessive sull'aver denaro il denaro come sapete Marx diceva che l'unico vero bisogno creato del capitalismo è il denaro pelux senza riprendere questa frase di Marx spera come la trasformazione antropologica ha a che vedere con il denaro il problema dei popoli della classe lavoratrice non è la mancanza di denaro ma il fatto che le loro fantasie su ciò che il denaro può fare superano di gran più la realtà è l'ossessione del denaro il problema non il fatto che sia rotto osservo che molte persone povere della classe lavoratrice di mia conoscenza trascordo mesurità di qualche tanto di tempo a fantasticare più potere dei soldi se quello che il denaro può fare una fantastica e una sicura venuta su una carriera da imprenditore attraverso l'accesso del prezzo che l'ideologia capitalista si necessita per la soggettività questa mancanza di sapere volezza lo sai per le luci deriva in parte dal fatto che il prezzo di indebitamento diffuso permettono a tantissime persone di consumare al di sopra delle possibilità di avere stili che non possono per me ora io per me il problema del capitalismo è ancora il censo di questo trasformato da stilettività e si possono ritirarsi i marxisti che per chissà che il capitalismo sia una religione per per amica d'occhi allora adesso vorrei fare un lavoro invece del partire da venire c'è ancora sì c'è ancora quanto tempo vorrei farlo partire da un liberale da Alexis de Tocqueville e dal suo libro e prenderò una parte di una cosa che scrive sul suo viaggio in America poi tradotto in questo libro sulla sociococrazia in America per vedere come la soggettività che la consuma crea è la soggettività delle democrazie contemporanee e disagi della soggettività creati del consumo permettono effettivamente la riproduzione della democrazia allora la cosa strabiliante che si può ricavare da queste pagine di Tocqueville è il fatto che lui scrive praticamente non una democrazia istituzionale ma un nuovo tipo di democrazia che non sa come chiamare che esiste a definirlo ecco io dico che gli Stati Uniti dagli anni venti hanno creato alle istituzioni democratiche classiche si sono affiancate a una democrazia di un tipo particolare che solo il capitalismo poteva creare parallelamente a New Dream e la canzone del welfare inizia una democrazia fondata sulla società del benessere solo per i bianchi evidentemente questa nuova democrazia si svilupperà pienamente solo dopo la seconda guerra mondiale pergiando forze economiche piuttosto che su realtà istituzionali ci sono due democrazia una istituzionale e una che è legata alle forme più specificamente capitalistiche e al centro di questa democrazia capitalistica c'è il consumo nel capitalismo vatturo e stagnante in cui stiamo vivendo il consenso è fondato sulla merce e il suo consumo individuale sul socializzato pubblico welfare e solo secondariamente sul voto e la partecipazione politica sindacale ed è questa democrazia che è stata assunta a partire dagli anni settanta la contro rivoluzione capitalistica ha assunto questa nuova soggettività e la trasformata legata al consumo e la trasformata in democrazia e lo cercherò di vederlo attraverso quello che dice Alexis di Tocqueville Tocqueville aveva visto emergere proprio dalla democrazia americana un potere immenso e tutelare lo definisce potere immenso e tutelare un potere sempre parole Tocqueville assoluto minuzioso sistematico previdente e mite un potere assoluto minuzioso sistematico previdente e mite che non sapeva come nominare ancora e che noi chiamiamo costumo è solo il costumo che può rendere conto di un potere che sfugge alle categorie di tirane e di sfottismo dice Tocqueville perché sempre la citazione di Tocqueville ha una forza di numeriboli di uomini simili ed uguali il godimento dei beni seducendoli e condannandoli irrevocabilmente a infanzia ed è la situazione in cui si trova il consumatore in cui si trova da voi non è un potere rispottico né tiratini è un potere che ci fa regherire all'infanzia cioè il narcisismo infantile se viene che sono in avanti sono tutte c'era di Tocqueville i dispositivi di controllo e di produzione della soggettività sono molto semplici ma la semplicità del capitalismo maturo è di realizzare libertà e uguaglianza tramite la circolazione delle persone cioè è una democrazia che si costituisce non sulla centralizzanza ma sull'accesso al consumatore ancora citazioni di Tocqueville che ci dicono chiaramente come deve essere pensata questa cosa chi può far sì che i cittadini si svaghino purché non pensino che a svagarsi se non il consumo dico io cosa che Tocqueville all'epoca evidentemente poteva difficilmente prevedere che il comito è del potere che i cittadini dovevano svagarsi purché non pensino che a svagarsi il potere inizio della circolazione delle merci corrisponde perfettamente al potere descritto dal liberale francese lavorando volentieri alla loro felicità dice sempre Tocqueville che qui vuole essere l'unico agente il solo arbitro perché non dovrebbe togliere loro totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere c'è questo potere assoluto questo potere assoluto che ha la capacità di far svagare il cittadino toglie completamente il fastidio di vivere di pensare di decidere io penso che questa cosa sia stata utilizzata soltanto attraverso la società di consumo invasivo e pervasivo accompagnando ogni gesto ogni comportamento ogni desiderio si esercita non su il vino strato quelle le teorie costituzionali democratiche ma sul proletario reale sui bisogni biologici ma anche sui desideri più personali il consumo il consumatorio le tecniche del marketing della pubblicità diventate ossessivamente onnipresenti corrispondono perfettamente a una democrazia capace di produrre una servitù ben ordinata facile e tranquilla queste sono parole di Tocqueville una servitù ben ordinata facile tranquilla che può combinarsi in qualche forma esteriore di libertà cioè questa forma esteriore di libertà che può combinarsi invece con la servitù ben ordinata facile questa forma di libertà esteri esteriore di libertà la stiamo vivendo quotidianamente il consumo può dirci molte cose sulla natura anche del potere e su come questo potere si crea si produce questo era già stato analizzato negli anni 70 ad esempio da Pasolini da Baudrillard e dallo stesso la celebre testo discorso di capitalista c'è che stiamo entrando in un tipo di capitalismo che è quello che ho descritto però sia Pazolini Baudrillard che Nacom hanno un'interpretazione abbastanza unilaterale di questo potere quindi vorrei vedere come si può pensare un doppio aspetto del consumo come possa agire positivamente e come possa agire negativamente con il filologo francese Michel Foucault si potrebbe dire che il consumo è l'esempio stesso di un potere che non reprime che non dice mai no ma che invece assecuta sollecita che incita o sempre di è un potere che non dice mai no quindi non è un potere negativo è un potere che dice sempre di sì che asseconda che sollecita clinicità desideri e bisogni degli individui degli individui il potere positivo del consumo sembra compensare e sublimare il potere negativo delle centralizzazioni e dell'esplodere delle polarizzazioni di classe e sesta stratta cioè sembrerente che il consumo fosse una forma che ripara le grandi ineguaglianze che il neoliberalismo ha prodotto io penso che vi possa vedere questa doppia faccia della soggettività contemporanea portata dagli estremi nella figura del turista il turista sarebbe il compimento di questa soggettivazione prodotta dal consumo il modello che realizza pienamente la soggettivazione del consumatore è il turista che si afferma definitivamente come modello della soggettività capitalista contemporanea quando l'industria del turismo diventa una delle importanti come in Italia in Italia che è già stato in cui l'industria fondamentale è quella del turismo la completa del positivo cioè l'inquestazione positiva del potere che incita e dice sempre di sì sollecita i desideri che vanno nel senso dei desideri degli individui perché la completa del positivo libera però una macchina di annentamento senza precedenti cioè al positivo corrisponde un negativo assolutamente contemporaneo il turista consumatore assolutamente deteritorializzato mentre significa la sua propria soggettività al punto del consumo distrugge le relazioni sociali economiche culturali linguistiche delle città e dei luoghi in cui circola facendo tabula rasa dell'ambiente di ogni tipo di ambiente che attraversa ecologico culturale sociale ed è la condizione fondamentalmente nostra è la condizione del turista è la nostra condizione del capitalismo attraverso portando all'estremo il consumo nella figura del turista esplicita completamente la sua funzione distruttiva distruttiva della soggettività stessa del turista ma distruttiva anche per l'ambiente della società delle economie la positività della sua azione perché produce ricchezza se prendiamo tra virgolette trasforma tutto ciò che tocca in distruzione il turismo è l'attice delle identità di produzione e distruzione del capitalismo contemporaneo nel capitalismo contemporaneo la produzione è immediatamente distruzione e la soggettività è presa dentro questa doppia doppia imperativo produrre e nello stesso esempio distruttiva ma per competere il potere del consumo occorre analizzare la natura del debito sua condizione e suo presupposto se questa trasformazione non viene prodotta dalle trasformazioni psicologiche è prodotta dal fatto che il debito e il credito sono fondamento del capitalismo dal 1971 la produzione è tirata fondamentalmente dal consumo due terzi del valore del PIL sono forze del consumo e il consumo è diventato la centralità del capitalismo contemporaneo questo ha avuto delle trasformazioni bastodontiche nella soggettività non vedo come si possa fare un discorso sulla trasformazione della soggettività senza prendere in conto questo aspetto allora il debito ritroviamo questi due elementi positivo e negativo nel debito il debito o credito è la stessa cosa dipende da come le legete il debito o credito è un potere positivo che spinge gli individui le imprese gli stati a spendere ma è anche soprattutto un terribile potere negativo che dagli anni 70 sembri la morte e violenza sul pianeta tramite le politiche di austerità e di aggiustamento strutturale imposte dalle istituzioni finanziarie internazionali che hanno ambientato economie sistemi di protezione diritti sociali e politici da prima nei paesi africani poi latinoamericani quindi nel sud-est asiatico per approdare finalmente in Europa e della Grecia ma anche in Italia la sua forza negativa è tale che la crisi del debito dei subprime esportata in tutto il mondo negli Stati Uniti diventa crisi del debito sovrano e ha aperto la fase della guerra il debito esercita un potere di vita e di morte sulle popolazioni del mondo cioè questa soggettività individualizzata è presa dentro questo doppio imperativo del debito cioè non c'è possibilità di sfuggire per il momento se non si trova delle forze collettive a questa a questo positivo e distruttivo del debito le trasformazioni della soggettività il disagio sociale io sono non sono un psicologo neanche uno studioso del ehm del disagio sociale in quanto tale ma non si vede come si porta non vedo come non si possano prendere in considerazione le trasformazioni della soggettività senza fare riferimento a queste grandissime trasformazioni caratterizzano eh da 50 anni da parte il capitalismo e questo modo di produzione e di vive e ho ancora 5 minuti si sente quello che dico o no ok allora allora vorresti dire effettivamente c'è un discorso io un discorso un po' più politico su come si possa affrontare questa questo problema non penso che si possa uscire da questa trasformazione della soggettività senza inventarsi una forma di di opposizione politica possiamo trovare una soluzione se non si trova una soluzione collettiva non vedo come individualmente si possa resistere a questa macchina internale che è traizzo nebito consumo impossibile pensateci un attimo siamo siamo completamente completamente dentro soprattutto che questa questa dinamica che ha portato alla crisi del 2008 la crisi finanziaria del 2008 che ha perso la fase della guerra della guerra in corso se c'è un problema ansiogeno è legato alla soggettività penso che questa fase di guerra che si sta diffondendo a livello internazionale sia importante da prendere in considerazione già analizzare le origini di questa guerra per il momento lascio da parte questa allora per terminare molto sinteticamente cercherò di dare qualche qualche elemento di discussione io penso che la nuova lotta di classe non sia sparito anche se ancora centrale nella nostra società nelle nostre le nostre vite sono stato spostato dice che la iniziativa capitalistica si è spostata da mettere al centro la produzione e il salario a mettere al centro il consumo e il credito ed è le sfumazioni della soggettività sono legate a questo a questo passaggio dalla produzione al consumo che non sono stato il primo a sono il primo a rilevarlo allora il potere del consumo io vorrei tornare un po' a Marx perché Marx nello scritto nel 44 quindi nello scritto economico fra le cose del 44 dove dice che il denaro è il è solo il vero bisogno che il capitale ha prodotto tutti gli altri bisogni sono subordinati al stato del denaro è evidente e quindi la centralità del denaro quindi del credito perché il denaro nel capitalismo è credito è debito Marx dice questa funzione del denaro non è una funzione economica non è una funzione sovrastrutturale attraversa la soggettività spaccando questo dice Marx se si legge con un po' di attenzione e perché perché da una parte fa dell'individuo un ente astratto universale uguale a ogni altro individuo a cui a cui la pubblicità fa balenare il diritto alla soddisfazione di ogni suo desiderio perché essenzialmente ha diritto come tutti gli altri al consumo questa è la prima figura della soggettività che Marx mette in avanti figura astratta universale sommatore che di fronte alla merce è uguale a tutti gli altri costruttori dall'altra parte l'accesso reale e non solo immaginare le merci è profondamente non universale non ugualitario perché dipende dalle condizioni di ciascuno questa universalità astratta e inuguaglianza che la pubblicità si mostra è smentita dal fatto che le inuguaglianze che si creano sono monstruose e non si può non tenere conto di queste inuguaglianze rispetto al consumo che si rifletta nella soggettività i consumi reali dei diversi proletari conoscono i limiti di ogni genere l'universalità l'astrazione e l'uguaglianza dell'individuo consumatore e la sua infinita capacità di spendere da questo primo posto si infrange contro il potere negativo del consumo che prevede a seconda delle esigenze dell'accumulazione del capitale austerità sacrifici rimborso del debito tagli del welfare blocco delle rinumerazioni privatizzazioni e ustimamente anche l'inflazione io penso che questa contraddizione sia ancora operante solo di offrostarla tra la produzione del consumo il ruolo strategico del processo di individualizzazione operato del consumo può essere analizzato in maniera radicalmente differente secondo che si adotti strumenti marziani o quelli di il filosofo francese coglierebbe del consumo il processo di differenziazione normalizzante degli individui differenziazione normalità e come consumo differenzia gli individui per normalizzarli e il potere si miserebbe essere una produzione del loro assoggetamento differenziante marx penso invece che non metterebbe tanto l'accento sulla differenza quanto sulla visione che attraversa l'individuo perché la divisione comporta sempre un'espropriazione l'espropriazione tra il consumo non è stata espropriata solo i mezzi di produzione per mettere in piedi il capitalismo si è distrutto il mezzo il consumo come era prima dell'evento del capitalismo si è imposto un consumo nuovo e questo questo consumo è prima è stato distrutto le forme tradizionali della riproduzione del consumo e se non sono state struttite altre quelle che stiamo che stiamo vivendo e quindi c'è stata un'espropriazione non solo dei mezzi di produzione come dice Marco c'è stata un'espropriazione anche della riproduzione anche del consumo infatti non possiamo consumare che nelle forme che il capitalismo il capitalismo ci propone non possiamo consumare differentemente oppure in circuiti minimi ecco Marco direbbe che per rovesciare questa gestione dovrebbe rovesciare questa espropriazione che è stata operata rispetto al consumo andrebbe politicamente attaccata e politicamente di pensato quindi ci sono due del potere della soggettivazione compresamente di Sarelli per i più da Marx e Foucault io non so quale delle due sia sia la più efficace la più pertinente per descrivere la situazione attuale ma è evidente che senza espropriare gli spiatori come diceva come diceva Marx all'epoca sarà difficile rovesciare questa distruzione della soggettività in cui siamo presi e mi fermo qui grazie sono stato letto in 30 minuti del tratto e lascio la parola al nostro romano sì un attimo metto il cronometro questa è una seconda altrimenti è che nell'ansia no 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 lo metto io non farci prendere dall'ansia nonostante grazie innanzitutto grazie dell'invito mi sento a casa mi sento in ottima compagnia e questo diciamo vi capita sempre più di rato quindi grazie per questo molte cose sono state dette immagino che insomma pesterò i piedi ai miei colleghi diverse volte o fischieranno loro le orecchie per cose importanti che sono state già già dette la mia relazione la mia comunicazione qui potrebbe intitolarsi il soggetto spensierato è ovvio che diciamo questo aggettivo va inteso in senso peffardo no diciamo non nel senso comune ma diciamo quasi alla lettera il soggetto che viene prodotto oggi dall'istituzione a mio avviso secondo la mia analisi è un soggetto strutturalmente del privato della facoltà di riflessione non lo dico in senso moralistico no è proprio una politica ecco che in qualche modo viene realizzata e che tende proprio ad togliere eliminare quella distanza potremmo dire tra soggetto e oggetto tra soggetto e mondo senza la quale la riflessione non può darsi il pensiero non può darsi e questa questa mossa questa politica di spensierizzazione ripeto non è una cosa moralistica è proprio un meccanismo di attivazione sociale no dico attivazione sociale e è chiaramente una mossa antimotistica moderna antimoderna nel senso se diciamo stiamo alla definizione di modernità che ci viene data ad esempio da Mauro Magatti un sociologo a cui sono molto legato il quale ci dice secondo me con una definizione molto appropriata di modernità su cui in tanti si sono esercitati questa mi sembra una delle definizioni più calzanti la modernità è quell'epoca nella quale ciascuno ciascun soggetto è posto nelle condizioni di esprimere e realizzare le proprie pretese di verità cioè ciascuno in qualche modo elabora un'idea di mondo un'idea di verità e sulla base di questa agisce ciascuno ciascun un singolo soggetto cittadino se vogliamo usare una locuzione più circoscritta e quindi l'idea di un soggetto spensierato è chiaro che va contro questa diciamo costruzione generale retorica dentro la quale noi stiamo in quanto moderni c'è un altro paradosso il paradosso è che insomma oltre ad andare contro con la definizione generale di modernità questa questa idea di un soggetto spensierato in qualche modo si oppone a quelle descrizioni della fase presente come una fase di modernizzazione riflessiva è un mantra che gira moltissimo tra i miei colleghi più grandi sociologi contemporanei da Giten Salasch a Ulrich Beck hanno parlato di modernizzazione riflessiva saremo in una seconda modernità secondo questi autori dentro la quale i rischi e diciamo le repliche suscitate dallo scatenamento dell'azione dei moderni provoca ad una sorta di continuo ripensamento di vigilanza critica sulle proprie azioni vista da un punto di vista soggettivo il soggetto riflessivo è colui che oltre semplicemente ad agire a scatenarsi nell'azione dopo aver definito il mondo e la verità in qualche modo ripara anche alle proprie azioni ne vede le conseguenze a lungo termine sul piano ecologico sul piano sociale e quindi ripara la propria azione quindi il soggetto riflessivo è un soggetto moderno al quadrato questa è diciamo la io direi lo dico diciamo con grande presunzione l'ideologia che anima buona parte diciamo della mia corporazione l'ideologia della modernizzazione riflessiva e contro questa ideologia invece penso che le istituzioni del presente lavorino invece a restringere sempre più lo spazio della riflessione a lavorare ad un a depensare il soggetto a non permettergli le attività di riflessione ora il la mia idea di soggetto insomma Enzo ha diciamo esplicitato le sue perplessità rispetto a questa nozione è molto semplice io qui ai fini diciamo puramente analitici intendo il soggetto sulla base di due coordinate molto elementari il soggetto in qualche maniera lo possiamo vedere possiamo vedere la sua azione rispetto a queste due dimensioni la prima è quella dell'energia l'energia è semplicemente il carburante della gira prendo proprio come nozione battagliana di George Battaglia l'energia va intesa in questo senso ciò che in qualche modo ci permette di metterci in azione le risorse che ci consentono di agire il valore è semplicemente la destinazione che il soggetto tende a dare di questo carburante della gira cioè il soggetto si mette in azione nel momento in cui riscontra individua scorge nel mondo circostante un valore qual valore non va inteso anche qui in senso morale nel senso che diceva Enzo cioè i valori insomma del sistema sociale che impregiano il sistema sociale che ispirano l'azione ma il valore lo intendo anche qui in un senso molto elementare che è quello fotografato da Georg Simmel in particolare il valore ciò ci dice lo riporto testualmente il valore per Simmel è ciò che nelle cose suscita il nostro interesse è quell'attrattore che ci fa andar verso qualcosa quel processo interiore e questa è una cosa importante interiore assolutamente elementare senza cui nel mondo non si darebbe alcun rapporto pratico con le cose sopra il mondo dell'essere si erge il mondo dei valori che infatti vive soltanto nei nostri interessi e nel nostro sentire quindi Simmel distingueva molto banalmente un mondo dell'essere cioè un mondo inerte senza intenzione da un lato questo mondo dell'essere non avrebbe alcun senso se non ci fosse il mondo del valore che è tutto interno ai soggetti e che in qualche modo attua una sorta di attribuzione di senso alle cose il valore è quindi un affare interno al soggetto e non è una proprietà dell'oggetto cioè una cosa non vale in sé il telefonino la penna non valgono in sé valgono nella misura in cui io attraverso un processo interno sento nei loro confronti di una sorta di attrazione ok e questa è una cosa tutta interna indefinibile ci diceva appunto Zimmer ovviamente il valore può essere positivo o negativo cioè qualcosa che ci fa scappare il valore negativo ci fa scappare dalle cose e ovviamente c'è anche un grado zero del valore il grado dell'indifferenza quando il mondo dell'essere non ci dice più nulla e quindi non siamo attirati da nulla ora questa dinamica tra energie e valore carburante dell'agire e valore ammonte l'energia valle il valore dentro questi due poli il soggetto si muove lo dico appunto in maniera senza implicazioni filosofiche è proprio una meccanica una dinamica potremmo dire tra energie e valore ora questa dinamica è sempre ordinata dall'istituzione ovviamente io quando dico il fatto che l'attribuzione di valore sia soggettiva e non appartenga all'oggetto non sia un attributo dell'oggetto ma sia qualcosa che avviene internamente al soggetto non significa che il soggetto crea da sé il valore il valore il soggetto è soltanto un terminale un nodo che vede una serie di influenze esterne ma diciamo il mio riflettore in questo momento è puntato sul soggetto come il soggetto attribuisce valore non mi interessa in questo momento fatto è che l'istituzione in qualche modo costantemente le istituzioni sociali ordinano il rapporto tra energia e valore ordinano il gioco tra energia e valore perché così funziona la società tutte le società funzionano nel momento in cui c'è una certa dinamica tra carburante dell'agire e valore verso cui il soggetto è orientato ecco il soggetto che dico spensierato nasce appunto in epoca neoliberale nasce con il neoliberalismo che io preferisco chiamare neo-orizzontalismo dirò più avanti magari perché ecco nella diciamo letteratura sociologica in senso lato la 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 narrazione del del passaggio all'era neoliberale e in particolare al soggetto neoliberale di cui molto ci ha detto già Enzo e e anche Maurizio la narrazione è diciamo fondata su una particolare concezione del soggetto una narrazione prevalente mainstream all'interno della letteratura sociologica cioè l'idea di un soggetto nevrotico che significa un soggetto nevrotico secondo questi autori adesso ne citerò alcuni diciamo durante l'epoca socialdemocratica mettiamo ma in realtà questa è una cosa che va avanti da molto tempo diciamo durante buona parte della modernità le istituzioni sono state sostanzialmente repressive in particolare nel novecento il novecento viene visto come l'apoteosi dell'istituzione repressiva repressiva di che cosa? repressiva del soggetto cioè il soggetto è stato sostanzialmente impedito di raggiungere le sue destinazioni di valore questo in varie salse ce lo dicono diversi autori da sia di destra che di sinistra mettiamola così molto in maniera molto rozza già a partire da Freud l'opera sociologica di Freud il disagio della civiltà ci descrive il soggetto moderno come un soggetto sostanzialmente nevrotico in cui i freni della civiltà della razionalizzazione del sistema sociale non permettono al soggetto di andare all'incontro del suo desiderio e quindi delle sue destinazioni di valore quindi già Freud aveva cominciato noi parliamo di Foucault e Foucault è ossessionato da questa idea dello Stato io sono portato a pensare che Foucault sia un autore molto provinciale vale a dire molto francese sia un Stato indubbiamente molto forte quindi gran parte della sua ossessione diciamo nei confronti di questo Stato repressore che reprime la sua oggettività e deriva dal fatto che stava in Francia banalmente però diciamo la sua narrazione è quella è l'idea di istituzioni repressive prima le istituzioni disciplinari poi quelle biopolitiche prima la repressione del corpo singolo con le istituzioni il carcere l'ospedale le istituzioni disciplinari poi le istituzioni della spede il corpo specie la biopolitica in ogni caso davanti a lui c'è sempre questa istituzione che reprime il soggetto impedendogli di andare verso le sue destinazioni di valore e ovviamente questi sono gli esempi massimi ma diciamo buona parte della sociologia si muove su questo versante pensiamo a liotarlo il postmoderno per cui le grandi narrazioni della modernità hanno di fatto represso la molteplicità discorsiva dei soggetti Revelli Marco Revelli che ci parla del novecento come il secolo mostruoso in cui la disciplina industriale la disciplina scolastica hanno represso il soggetto eccetera ma appunto anche sul fronte neoliberale chiaramente Fonayek in Constitution of Liberty ci parla dell'idea che anche quando il welfare in qualche modo ci dà da mangiare sostanzialmente mette in sicurezza le vite delle persone il problema di fondo qual è è che prescrive i percorsi d'azione di vita e di fronte a questa prescrizione il soggetto si sente soffocato questa è la narrazione neoliberale di Fonayek che poi effettivamente informa l'ideologia successiva Massimo Paci che diciamo è un sociologo anche lui buono tra virghe social democratico dice che con il passaggio nuovo welfare quindi con il superamento del welfare pesante novecentesco nell'opera nuovi lavori nuovo welfare ci dice che finalmente con questa nuova epoca con la destrutturazione del grande welfare possiamo realizzare le promesse dell'illuminismo quindi la libertà eccetera eccetera ma poi anche lo stesso Mauro Magatti ci dice che il passaggio dal regime social democratico a quello neoliberale è un passaggio connotato dall'enfasi sulla libertà individuale Claudio Bazzocchi anche ci dice che col passaggio al neoliberalismo il soggetto viene liberato viene portato a realizzare le sue esigenze di valore al godimento puro insomma tutti in qualche modo ci parlano di questo soggetto nevrotico represso dal grande regime di wealth che finalmente viene liberato con il neoliberalismo io penso che questa narrazione sia una narrazione in gran parte consolatoria basata appunto su uno schema nevrotico e anche su uno schema sostanzialista che cosa voglio dire sostanzialista nei confronti del valore cioè tutti questi autori ritengono che il valore sia qualcosa di solido per cui il soggetto è portato ad inseguire il valore quindi la società migliore la società ideale è quella che lascia i cittadini inseguire i loro valori perché il valore è una sostanza e quindi diciamo una volta preso questo valore afferrato dal soggetto il soggetto è felice ok ecco ritengo appunto che questa sia una narrazione consolatoria che sia un po' la favola della volpe l'uva se possiamo dire così ed è una narrazione molto funzionale secondo me alla ristrutturazione neoliberale e quando dico che è funzionale vi sto dicendo anche che non sono soltanto i fonai e i neoliberali a legittimare questa narrazione ma anche la ecco l'ala sinistra del neoliberismo diciamo come la chiama Magatti che appunto tutti insomma gli autonegri Art per esempio che parlano dell'uomo-uomo contro il potere sovrano ok quindi l'idea appunto della liberazione assoluta ecco io invece penso che la transizione al neoliberalismo vada invece fondata su una sulla primazia la prevalenza del soggetto psicotico non del soggetto nevrotico no e anche su un'idea non sostanzialista del valore ma un'idea impermanentista cioè il valore si consuma non permane ok quindi questi sono i miei due poli cioè contro una narrazione nevrotico sostanzialista io dico che il passaggio invece al regime neoliberale è fondato diciamo su un effetto psicotico che si è voluto superare e sulla impermanenza del del valore è questo che ha generato la svolta neoliberale che cosa significa soggetto psicotico e su che cosa tutto questo è basato allora che ora è? si va bene parafrasando Magatti prima ho detto che diciamo la modernità è la libertà nella ricerca della verità potremmo parafrasare Magatti dicendo che la modernità è la libertà nella ricerca del valore la modernità si basa su questo il soggetto che va verso il valore che che ne dicano tutti gli autori finora citati il regime moderno è a mio avviso un regime che poi possiamo identificare con l'espressione regime di accessibilità illimitata l'istituzione moderna tende semplicemente a diciamo così neutra autoneutralizzarsi nascondersi per fare in modo per permettere ai soggetti di inseguire illimitatamente il valore come ci dice Baudrillard le nostre società sono fondate ruotano tutte intorno al valore in questo senso il regime moderno per antonomasia è un regime che io chiamo neutralitario è un ordine senza progetto cioè l'istituzione moderna politica moderna per eccellenza è quella che non realizza un determinato progetto di vita cioè non ti dice qual è la vita migliore e quindi la allestisce semplicemente permette a ciascun soggetto di costruire il proprio progetto di vita e di realizzarlo questo è diciamo questo è il regime moderno che ha conosciuto diverse fasi una prima fase orizzontale quella ottocentesca che è quella fondata sul self-regulating market sul mercato autoregolato come ci dice Carpolani quale migliore neutralità se non quella del mercato in cui tutte le esigenze appunto si compongono secondo l'ideologia liberale il mercato autoregolato quindi a un punto di vista economico abbiamo questa prima fase liberale ottocentesca in cui diciamo questa corsa verso il valore è fondata sul piano dell'allestimento della regolazione economica sul mercato autoregolato in cui anche i fattori produttivi denaro terra e lavoro diventano merci come le altre è il sistema più neutro per ottenere questa circolazione universale Norberto Bobbio ci dice che da un punto di vista politico passiamo dal governo degli uomini al governo della legge è molto bella questa espressione che significa significa che al governo non c'è un soggetto incarnato con delle sue idee con un progetto al governo c'è la legge c'è una un meccanismo neutro che semplicemente permette a ciascuno di realizzare i suoi interessi di seguire i suoi valori possibilmente senza inseguire senza intralciare diciamo la stessa traiettoria inseguita da altri ok le traiettorie altrui si ha più precisamente una separazione tra diritto e giustizia ci dice Norberto Bobbio cioè l'ordinamento giuridico non è mirato a realizzare una determinata idea di giustizia ma è semplicemente un meccanismo neutro il diritto non è giustizia è semplicemente abilitazione neutra all'accesso dei singoli questa modalità neutra in realtà ha dato cattiva prova di sé perché quando scateni il mercato è ovvio che sopravvanzano i più forti quindi i più forti hanno la capacità di raggiungere effettivamente le loro mete di valore i più deboli no che quindi all'inizio del novecento quello che c'è stato è stata un'implosione di questi sistemi per diverse ragioni descritteci anche molto chiaramente da Carpolar quindi nel novecento noi abbiamo avuto è succeduto diciamo al sistema orizzontale un sistema verticale per il quale invece l'istituzione non ha abbandonato la sua neutralità però in qualche modo ha diciamo così spinto i soggetti ha aiutato i soggetti su basi universalistiche di eguaglianza a inseguire i propri valori e ciò che Polani ha chiamato la grande trasformazione quindi lavoro terra e moneta sono state assunte sovranamente dall'istituzione pubblica dallo Stato che li ha gestite per il bene comune quindi non più merci lasciate alla contrattazione individuali perché così si assicura l'esistenza collettiva secondo secondo Carpolar e tutto il novecento è fondato sulla grande trasformazione che poi è stata declinata variamente dai regimi autoritari fascisti poi dagli regimi socialdemocratici nel novecento non è un caso che diciamo in tutti i paesi ce lo mostra chiaramente Picchetti l'indice di Gini che misura l'uguaglianza e insomma ci ha diciamo rivelato una sostanziale la realizzazione di una sostanziale l'uguaglianza solo diciamo a partire da 30 anni a questa parte siamo tornati ai livelli di disuguaglianza di fine ottocento perché siamo tornati alla regolazione orizzontale però durante la regolazione verticale abbiamo avuto una sostanziale uguaglianza siamo passati dalla cosiddetta libertà negativa alla libertà positiva Salvatore Veca ci dice la libertà negativa è la libertà di desiderare ciò che ci accade di desiderare mentre la libertà positiva è la libertà di desiderare ciò che dovremmo desiderare sostanzialmente tu realizzi la libertà non se semplicemente dice alle persone fate quello che volete quella è la libertà negativa io non mi muovo come istituzione fate quello che volete la libertà positiva invece ti do gli strumenti e l'energia appunto per realizzare i tuoi valori quindi ovviamente vede l'istituzione in un ruolo attivo l'istituzione che realizza non soltanto la cittadinanza politica la cittadinanza civile ma anche la cittadinanza sociale cioè i diritti appunto sociali la lotta politica ovviamente si incentra tutta sul piano dell'energia cioè il vero motivo di discrimine tra liberali e socialdemocrati socialisti più in generale è come ripartire l'energia secondo ovviamente i liberali l'energia va diciamo accaparlata in maniera molecolare quindi chi ha più filo e chi ha più famiglia diciamo ha più energia e chi non ce l'ha vuol dire che non se la merita per invece i socialisti l'energia va ripartita equamente con vari con vari sistemi ma le due scuole di pensiero non intervengono mai sul lato del valore cioè sul lato del valore si pensa che la società migliore è quella che dà la possibilità ai soggetti di afferrare le entità dotate di valore ok su questo socialisti e liberali non si differenziano ok la vita buona è quella che consente ai soggetti di seguire i propri valori ora qual è il problema che diciamo cerco di sollevare tardissimo è che il valore invece è impermanente il problema fondamentale del valore è che è impermanente cioè nel momento in cui lo conquistiamo nel momento in cui afferriamo l'oggetto dotato di valore questo valore si consuma quindi una società fondata sull'illimitato inseguimento del valore io non sto parlando qui solo del capitalismo chiaramente sto parlando della modernità in generale anche quella buona quella socialista ok un sistema fondato sull'illimitato inseguimento del valore è naturalmente votato allo scacco perché diciamo il valore si consuma è impermanente Simmel sempre con il suo discorso sul valore ci dice nello stesso momento del godimento in cui soggetto e oggetto annullano i loro contrasti cioè io afferro il soggetto e quindi annullo il contrasto col soggetto consuma per così dire il valore esso si forma di nuovo soltanto nella separazione dal soggetto apprezziamo come valori molti beni soltanto quando li abbiamo perduti una frase banale di buonsenso quando afferremo il valore l'oggetto dotato di valore il valore si consuma ok allora questo regime del valore è votato allo scacco io la chiamo stagflazione antropologica cioè quello che è successo secondo me tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è una al di là della stagflazione economica che diciamo ha imperversato a metà degli anni 70 abbiamo avuto anche una stagflazione antropologica vale a dire che all'eccesso di chance di vita è corrisposto una devalorizzazione del mondo e il soggetto è rimasto paralizzato io so di entrare in un campo molto discutibile perché questa è una tesi conservatrice sono i conservatori che dicono questo però c'è un elemento secondo me di verità allora quello che si è verificato è da una parte una sorta di paralisi nell'offerta cioè il soggetto ha smesso di funzionare di agire e di camminare dall'altra parte questa stagflazione continua ha portato al cosiddetto sovraccarico l'overload di domande nei confronti dello stato di welfare perché è chiaro che nel momento in cui lo stato dà risorse e diritti la dinamica del valore non finisce mai e quando il valore si consuma i soggetti non fanno altro che reclamare nuovi oggetti per rinfocolare per rinnovare costantemente la tensione al valore ok per cui ci si è trovati da un lato sul lato dell'offerta alla paralisi sociale sul lato della domanda ad un overload ad un sovraccarico che lo stato non è stato più in grado di gestire come ne siamo usciti con la soluzione liberale che hanno fatto sostanzialmente i liberali hanno usato una strategia di io la chiamo di precarizzazione mobilitante cioè hanno semplicemente cancellato quel sistema che non è soltanto lo stato e lo stato come istituzione ma è tutto quella costellazione di organismi collettivi movimenti partiti sindacati che in qualche modo garantivano al soggetto non solo protezione esistenziale socio-economica ma anche identità comunità che in qualche modo accoglievano il soggetto e gli davano identità hanno sostanzialmente usato una strategia di particolarizzazione in cui il soggetto è stato diciamo così rispedito nel preistorico nei Grundris Marx ci dice noi siamo ancora nella preistoria magari siamo nella lotta per la sopravvivenza entreremo nella storia come umanità nel momento in cui la lotta per la sopravvivenza sarà conclusa e quindi i soggetti potranno dedicarsi alla coltivazione dei propri talenti alle proprie relazioni eccetera eccetera ora il problema è che noi con il welfare un po' non totalmente siamo entrati nella storia ma non è successo quello che diceva Marx oggi ce l'abbiamo con Marx è successo invece che i soggetti si sono sostanzialmente paralizzati allora la strategia neoliberale ecco la precarizzazione non è l'effetto diciamo accidentale dei processi di ristrutturazione capitalistica è una politica deliberata che in realtà il capitale interviene agli intervalli ricorrenti su questo ho letto il libro di Clara Mattei che ho visto anche lì al banco che è molto utile perché ci fa capire come negli anni venti ad esempio il capitale è intervenuto per ripristinare diciamo l'elemento della precarizzazione perché nel momento in cui il soggetto è braccato è diciamo isolato egli diventa un soggetto costantemente bisognoso che deve costantemente lottare per la propria sopravvivenza si dice battaglie se noi guardiamo le cose dal punto di vista generale i problemi sono posti in primo luogo dall'abbondanza di risorse se le guardiamo dal punto di vista particolare cioè del singolo soggetto del singolo soggetto umano della singola pianta del singolo animale i problemi sono posti in primo luogo dalla insufficienza delle risorse cioè quando io non ho più la protezione della comunità anche se vivo in una situazione di opulenza di affluenza no? noi siamo in sacità ricche come diceva giustamente Enzo il problema non è la povertà noi siamo in società ricchissime ma ci sentiamo mancati abbiamo appunto questa ma l'istituzione che ha giocato così cioè ha sostanzialmente tolto l'energia ai soggetti per rinfocolare il valore questo è il problema di fondo che noi ci troviamo ad affrontare il problema è che diciamo il capitalismo ha trovato il suo modo che è appunto il rigetto nel preistorico qui c'è una cosa insomma concludo su questo so che ho pochi di minuti Max Weber più che Marx ha detto una cosa fondamentale secondo me sul capitalismo cioè lui diceva uno dei requisiti probabilmente il più importante requisito del capitalismo precondizione del capitalismo è la disponibilità di una larga massa di soggetti che non sono soltanto liberi di vendere la propria forza lavoro in cambio del salario ma che sono anche obbligati a far questo appena della propria sopravvivenza quindi affinché il capitalismo possa funzionare tu devi avere una massa di persone che vivono quotidianamente il pericolo per la propria sopravvivenza altrimenti il capitalismo non funziona ok ora quello che è successo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 è un ritorno a questo obbligo sostanziale che riguarda anche garantiti cioè anche noi che stiamo all'università Enzo lo sa bene no che siamo sistemati diciamo no siamo sollecitati attraverso tutta una serie complicatissima di regole a produrre costantemente no perché poi ne va dalla nostra sopravvivenza magari non ci tolgono stipendio ma diventiamo sostanzialmente dei pari molti ok quindi in qualche modo in ogni ambito della vita sociale viene ripristinata la corsa la corsa per la sopravvivenza anche se questa non è minimamente giustificata dal livello di diciamo avanzamento tecnologico organizzativo che oggi consentirebbe a tutti di avere una vita dignitosa ma il problema è che noi con la vita dignitosa non risolviamo cioè il problema è questo che il capitalismo la sua soluzione l'ha trovata e ha riattivato i soggetti li ha riattivati in quella forma assurda perversa che ci ha descritto in maniera magistrale Enzo cioè sotto il segno dell'ansia ok della corsa continua ok però ha rimesso in moto la società noi socialisti questa cosa non ci abbiamo pensato ancora una pista è quella sicuramente che ci ha offerto Enzo no la circolazione il mosso il dono io sono mi sono formato nel movimento antitilitarista per le scienze sociali che diciamo il cui acronimo è mos ma us no proprio perché ha riferimento questo io ci aggiungerei so che qui faccio arrabbiare Enzo anche battaglie diciamo in buona parte del mio discorso è poi fondata anche sull'idea di battaglie di azzeramento del surplus perché la dépense per battaglie era una forma di azzeramento del surplus che impedisce la creazione di quelle disuguaglianze che poi ci mettono nella corsa per la sopravvivenza e ci consentono di ragionare insieme sul senso di ritrovare un senso di comunità ok e di sfidare il non senso perché la distruzione del surplus è la scoperta del fatto dell'impermanenza del valore cioè le cose del mondo purtroppo non ci tengono attaccati al mondo questa è una realtà ontologica secondo me con cui dobbiamo fare i conti che non possiamo eludere ma come facevano gli antichi le società premoderne distruggevano il surplus era un modo per azzerare il valore e per ripristinarlo lo facevano in maniera comunitaria noi l'azzeramento la dépense invece la interpretiamo in forma totalmente privata potremmo dire che l'esistenza del soggetto spensierato oggi è stretta come un nodo gordiano tra due poli il polo della precarizzazione mobilitante da un lato e il polo della dépense privata dall'altro cioè il soggetto è precarizzato buttato nella corsa e nel momento in cui incontra il valore e e questo veniamo alle cose che ha detto Maurizio prima portato al consumo dissipativo cioè alla distruzione delle cose del mondo alla dissipazione ma in forma privata che non in quella forma pubblica ed eminente che potrebbe invece ricostruire un senso di comunità io penso che come socialisti su questo dovremmo lavorare come distribuire le risorse quello lo sappiamo lo sappiamo come fare l'abbiamo già fatto e quindi sappiamo quali sono le tecniche per garantire a tutti una vita dignitosa vedete ce ne fosse diciamo magari l'avessimo oggi perché siamo ovviamente lontanissimi da questo però noi non risolveremmo la questione se fosse solo quella dobbiamo invece ripensare la costruzione della comunità del senso e del valore su questo siamo molto indietro nella riflessione mi fermerei qui so che sono ho accicciato un po' di questo grazie mille anche al professor Romano purtroppo a rimanere scriva la quarta redattrice non riuscirà a partecipare e quindi lasciare spazio alle domande dal pubblico ce ne sono nessuno allora mi faccio meglio entrambi Costa e Romano avete come dire mostrato che siamo alcuni di un climax in qualche modo alcuni della statuazione antropologica e alcuni potremmo dire dell'erosione di determinate strutture emotive mi chiedo quale sia il punto di rottura in qualche modo e marzianamente diciamo il superamento di questa situazione cioè il passaggio a un socialismo di tipo maussiano come avviene deve avvenire una catastrofe antropologico o un po' altro rispondere prima io così poi lascio perché mi serve per riprendere la tua domanda per porre una questione a Romano qui anche io ho insistito sulla faccenda della circolazione della redistribuzione sul fatto il meccanismo socialdemocrato che era anche un processo di redistribuzione emozionale società sicure se avessimo tempo potremmo entrare c'è una società in cui il bambino prima di nascere la mamma inventa una canzone va sotto un albero e inventa una canzone poi torna nel villaggio la insegna al compagno fanno l'amore insieme cantando la canzone quando nasce il bambino la comunità canta la canzone questo è un dato antropologico è una cosa molto particolare mi ha colpito però cose simili avvenivano al mio paese quando ero piccolo io immagino mentre secondo me molti dell'età di Luca non hanno esperito una cosa simile questa canzone veniva cantata tutte le volte che c'era una fase di passaggio che questa era una situazione di contenimento cioè la comunità è lì noi abbiamo gestito molto il fatto che c'è la circolazione del dono quindi torniamo io e lui siamo d'accordo dobbiamo recuperare il socialismo alla mossa non il socialismo materialista diciamo nessuno credo qui può pensare seriamente che il socialismo sia la socializzazione dei mezzi di produzione cioè se qualcuno pensa una cosa simile diciamo ne parliamo ma secondo me allora cosa intendiamo per il socialismo un processo di circolazione questo credo che siamo d'accordo c'è un punto però che è un po' un punto di lettura filologica di Marcel Moss però è un punto di vista secondo me teorico fondamentale e se noi leggiamo il saggio sul dono è vero che Marcel Moss dice che le cose devono circolare ma non è vero che tutto è dato alla circolazione e Godelier ha fondamentato della società umana fa una lettura di Marcel Moss e dice ma Moss ci dice che c'è qualcosa che non viene mai scambiato neanche nel modo della circolazione perché viene trasmesso da padre in figlio cosa sto dicendo che il legame sociale Moss ci dice da un lato si crea attraverso la circolazione la ridistribuzione continua del potere ma dall'altro il legame sociale ha a che fare con una cosa che si chiama tradizione e nessuna circolazione può tenere insieme il legame sociale perché il legame sociale prima di tutto è un legame tra le generazioni e noi abbiamo perso quello l'esperimento socialdemocratico doveva fallire non poteva non fallire perché l'esperimento socialdemocratico enfatizzava è una butata dovrei argumentarle scusami Onofri ma hai per dialogare con te anche doveva fallire non poteva non fallire perché pensava c'era troppa somiglianza il neoliberalismo ha lavorato su quello cioè pensava di costruire il legame sociale all'interno di contemporanei e invece distruggeva quel legame sociale che è più radicale del legame tra me e lui che è l'idea che io mi devo pensare come punto di passaggio tra mio nonno mio padre e le mie figlie cioè questa perché io sono l'essere umano è storia non è soltanto società se voi ci pensate il neoliberalismo è il punto in cui colpisce ogni giorno ogni giorno in cui colpisce le giovani generazioni e il modello social democratico era una cosa che veniva fatta a scapito delle generazioni future tutta la discussione sul debito è stata una discussione cioè avete fatto il modello social democratico scaricandolo sul debito cioè è andata a colpire su un punto in cui aveva ragione perché abbiamo esaurito le risorse di valore che sono questo non sono sicuro onofrio ci sono i valori si consumano in Zimmer sono d'accordo c'è una cosa bellissima la vita è sempre più che vita quindi nel momento stesso in cui perché altrimenti una vita è la nozione di valore in sartre lo sa il valore è ciò che devo essere per essere me stesso questo è la distanza che rende possibile un momento di trascendenza a livello individuale a livello sociale senza questa distanza però c'è qualcosa che è più radicale che è quella che costituisce la sicurezza ontologica il termine sicurezza ontologica adesso qui non lo posso la sicurezza ontologica è quello che ti lega alle generazioni cioè non possiamo pensare che si possa costruire legame sociali tra contemporanei se non vi è alla base la costruzione di legame sociale intergenerazionale questo è il punto che si è perso il punto che noi abbiamo perso per cui le giovani generazioni non riusciamo più a contenerle di adolescenti li stiamo perdendo e che si è rotto il legame intergenerazionale da questo punto di vista il saggio sulle generazioni mi fermo qui cioè Marcel Moss riprendiamolo ma riprendiamolo mettendo insieme circolazione ma non ci sono cose che non vengono date vengono solo trasmesse certo per rispondere alla domanda di Luca io penso che come dice Preterossi la politica ci viene a sbattere in faccia anche se noi non la riconosciamo nel senso che ecco io non vedo grandi possibilità di svolte interne diciamo che ci sia una sorta di ripensamento di quel sistema neoliberale che ormai impregna diciamo l'Unione Europea in maniera diciamo catastrofica e è chiaro che questo non sta reggendo a che cosa? al confronto internazionale diciamo ecco pur nella tragicità della cosa è chiaro però che il fatto che si stiano affacciando queste nuove grandi potenze regionali che sono tutte guidate politicamente cioè che proprio rivaltano il principio della fine della storia il principio della mercatizzazione globale pur prendendo tantissime cose ovvio che le logiche di consumo in Cina sono molto più spinte delle nostre se vogliamo però lì vediamo diciamo una mano politica che si riaffaccia cioè un collettivo che ricomincia a ovviamente l'Occidente è in sé si parla moltissimo del cosiddetto Frenchoring cioè il fatto che le catene del valore tornano ad essere impostate sulla base del principio amico-nemico no? non più sulla base del mercato anonimo quindi vado a prendere il fornitore amico mio non quello che mi dà il prezzo migliore e quindi diciamo stanno cambiando delle cose malgradone malgrado le nostre convinzioni io penso che occorrerà lavorare su quello cioè politicamente dobbiamo sfruttare secondo me quest'onda perché lì possiamo in qualche modo cominciare a giocare qualche fish no? cioè in questo mutamento istituzionale nel quale diciamo la politica torna egemone eccetera io vi ringrazio purtroppo abbiamo finito il tempo ringrazio il pubblico per la presenza e per l'attenzione e i nostri relatori per le loro brillanti relazioni grazie buon appetito grazie a tutti 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 grazie a tutti